Noi abbiamo sfruttato tutte le possibilità che in questi anni abbiamo avuto. Noi abbiamo speso oltre 15 milioni di euro in 15 anni per gli edifici scolastici. Siamo a un 90%, ora dovremo riuscire dentro un anno o due ad arrivare al 100% della sicurezza sismica. Non miglioramento, io sto parlando di adeguamento sismico per la nostra classe di rischio comunale. Abbiamo praticamente messo a norma quasi tutti gli istituti scolastici e sfruttando la normativa, quindi il finanziamento sulla messa a norma dal punto di vista sismico, abbiamo integrato quella messa a norma anche con la messa a norma impiantistica, quindi antincendio, impianto elettrico ed efficientemente energetico, rifacimento dei tetti e degli infissi. Ogni nuovo bando che esce regionale noi ci buttiamo, ovviamente sono fondi strutturali europei che passano tramite la regione e se c'è una cosa che è andata bene in questi anni è il continuo flusso di risorse per l'antisismica. La regione toscana è stata molto brava da questo punto di vista e noi siamo un comune beneficiario perché abbiamo fatto progetti.